Riguardante il centro commerciale naturale, il cuore pulsante dell'economia cittadina che può beneficiare di un finanziamento regionale che continuerà adunque a migliorare la sua immagine e una seconda invece sul fronte del popolo degli abusivisti edilizi che sicuramente è altrettanto importante. La prima è importantissima che cioè grazie all'impegno di Giovanni Baldi che ho definito l'angelo custode di Cava dei Tirreni in Regione abbiamo ottenuto una proroga di sei mesi per la realizzazione dei lavori del centro commerciale naturale per una serie di ragioni legate ai tempi per ottenere il parere della sovrintendenza e soprattutto ai tempi per le alienazioni che hanno consentito il cofinanziamento dell'importo di competenza comunale alla scadenza che era giugno scorso era tutta pronta la macchina per partire ma i termini erano ormai ispirati. Siamo riusciti ad ottenere con tanta fatica devo dire questa proroga di altri sei mesi che ci consentirà entro dicembre di ottenere questi lavori importanti, i cestini e l'arredo urbano per il centro commerciale naturale quindi per la parte antica e centrale di Cava, l'abbattimento delle barriere architettoniche per i diversamente abili il bagno pubblico per normodotati e per diversamente abili dentro la struttura di San Giovanni la predisposizione di telecamere, totem per informazione pubblica quindi eliminazione dei manifesti per esempio mortuari o altro insomma una serie di interventi che qualificano decisamente il nostro centro storico dico questo per dare una risposta a distanza senza nessuna polemica perché poi ognuno ha le sue ragioni a chi dice che non ci stiamo impegnando per il centro storico il trincerone parla da solo, il prolungamento del corso parla da solo i lavori di Piazza Abbro che di qui a una decina di giorni riprenderanno parlano da soli il progetto di realizzazione di due piani sotto Piazza San Francesco e la nuova Piazza San Francesco che partiranno per l'inizio del 2015 parlano da soli questo intervento un po' recuperato con i capelli ma di grande importanza parla da solo Cava veramente cambia, cambia a partire dal suo centro che è il patrimonio di tutti cambierà di qui a breve anche nelle frazioni grazie al finanziamento di 20 milioni di euro che ancora dovendo ringraziare per questo Giovanni Baldi la città ha ottenuto per cui completato questo percorso ci saranno interventi mirati in tutte le frazioni di Cava dei Terreni